La Giunta della Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare la realizzazione e l'ampliamento di centri di raccolta comunali, ovvero di associazioni di comuni, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Le risorse sono state racimolate tra le rimanenze destinate all'attuazione obiettivo operativo 1.1, gestione integrata del ciclo dei rifiuti del POR FESRE Campania 2007-2013. Il deliberato demanda ora al dirigente competente la predisposizione ed emanazione di un apposito bando contenente i termini e le modalità di presentazione dei progetti. La valutazione degli interventi proposti finalizzati alla realizzazione o ampliamento dei centri di raccolta da parte dei comuni e associazioni dei comuni sarà affidata ad una commissione di valutazione nominata dopo la scalenza del termine stabilito nel bando. Di prossima pubblicazione per la presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti.